Il grande applauso per loro, il grande applauso di ogni giorno. Primo arbitro, la signora Paulina, senatore Marco Fioroglio, coadjuvato da Enrico Setti, il libero Francesco. Il grande applauso per loro, il grande applauso di ogni giorno. Il grande applauso per loro, il grande applauso di ogni giorno. Il grande applauso per loro, il grande applauso di ogni giorno. Il grande applauso per loro, il grande applauso di ogni giorno. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima